ed è buongiorno buongiorno benvenuti e bentrovati vi mancava tutto questo a me sì e quindi si riparte da martedì 8 settembre tutti i giorni fino al venerdì io compro siciliano live alle ore 12 per raccontare la sicilia identità qualità provenienza perché io compro siciliano ci piace vi aspetto ciao